La prima Z è Z come Zappa, che credo sia quella che si è tirata da solo sui piedi Awed. Lui è stato, ha preso tutte le nomination, praticamente tutte le nomination del gruppo l'ultima volta, dopodiché si è pentito, ha fatto un mea culpa, è rinato per stare in tema pasquale, è risorto, ha quasi rinnegato l'amicizia con Vera. Quello che lui non sa è che però di là c'è Mirea con Vera e Mirea diciamo che gli ha spoilerato tutto a Vera. Quindi Vera sa esattamente quello che è successo a Awed. Dunque se esiste un dio del reality, io mi auguro che un giorno ci possa essere questo... Un confronto, che noi attendiamo. Ti prego, ti prego. Con molto... Eh, sarebbe epico. Dopodiché abbiamo Z come Zattera, che è quella su cui si potrebbe tranquillamente vivere la sua esperienza a Beppe Braida che nessuno se ne accorgerebbe. È dalla prima puntata che praticamente non l'abbiamo visto in nessuna delle clip e mi dispiace, perché io in lui, in un comico, in una persona comunque di carattere... Brillante. È, brillante. Mi sarei aspettato qualcosa di più, però evidentemente non è riuscito a uscire come voleva. Spero anche che questa Zattera ad un certo punto naufraghi... E prenda il largo. In qualche modo ci libereremo di Beppe Braida in questo reality. Z come Zampate, che sono quelle che ha dato la Martani fino a un secondo prima di uscire da questo reality. Sono Zampate che evidentemente non sono piaciute al pubblico, però a mio avviso le Zampate sono sempre ben accette perché creano un contraddittorio e credo che lei sia uscita comunque da regina di questo reality, no? Grazie a tutti.